Abbiamo presentato lo sportello legale contro il bullismo oggi qui in Senato, un progetto proposto dalla provincia di Padova con la collaborazione dell'ordine degli avvocati e dell'ufficio scolastico di Padova e Rovigo. Un'iniziativa unica in Italia, bisogna fare prevenzione, questo sportello ha proprio questa indicazione, prevenzione e portare a conoscenza, famiglie, scuola e gli stessi ragazzi di quelli che possono essere le cause, le situazioni e cosa vanno in corpo.